e ben ritrovati sul mio canale ancora una volta un saluto questo saluto era molto da bella a tutti ragazzi venuti a questo non è vero comunque questo è un nuovo episodio delle news settimanali e come sempre ve lo ricordo se state guardando questo video vuol dire che youtube vi ha mandato il feed no non è vero di sicuro state arrivando da telegram perchè secondo me youtube oramai mi odia quindi qua sotto trovate il link del mio canale telegram per non perdere nessuna delle notifiche dei nuovi video e anche il mio profilo instagram dove pubblico appunto tutte le storie quello che succede nella mia life quindi andate qua sotto e trovate tutti i link ovviamente vi ricordo che questo episodio è in collaborazione con il canale youtube di black geek tutorial ma credo che anche questo voi lo sappiate quindi qua sotto trovate il link del suo video news e anche qua sopra nella scheda dedicata ma per il resto oggi è una puntata un po' povera di news ma sarà abbastanza frizzantella quindi iniziamo subito con le news tech della settimana facebook ha dei problemi non ci credo c'è zuckenberg l'ha fatto di nuovo probabilmente perchè sta per diventare padre non lo so ha dei problemi ce l'avete presente il detto squadra che vince non si cambia bene ok che non si cambia però poi nello spogliato io c'ho una puzza incredibile perchè poi non si cambia da un po' e la stessa cosa sta succedendo in facebook infatti in facebook inizia ad esserci questo tanfo incredibile perchè le storie che prima erano su instagram anzi prima di tutto erano su snapchat sono passate su instagram poi sono passate su facebook poi sono passate su whatsapp e adesso su messenger e si chiamano messenger day ma soprattutto io devo postare la stessa storia su 15 social diversi no è la cosa più stupida della terra secondo me perchè 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 la domenica mi lasci sempre sola secondo me adesso anche che ne so in qualsiasi supermercato troviamo una postazione di facebook dove mettere le storie non ho parole si vede che non ho parole non ho parole ma tralasciamo anche questa news perchè insomma eh ma continuiamo a parlare di facebook perchè ce l'avete presente le storie di whatsapp no? la fotocopia di quelle di facebook che sono la fotocopia di quelle di instagram che sono la fotocopia di quelle di snapchat no? alla fiera dell'est per due soldi una storia mio padre comprò ce l'avete presente whatsapp che aveva tolto gli stati per mettere appunto le storie su whatsapp e almeno hanno fatto una cosa decente rimettendo gli stati su whatsapp oh mio dio siamo nel 2019 da quanto siamo avanti incredibile così adesso potrò riscrivere il mio stato preferito di whatsapp cioè polonia perchè? perchè è uno stato ed è uno stato bello sono simpatico vero? iscrivetevi al mio canale e mentre mi arriva qua sul pc una notifica di Andrea Gagliazzi che ha appena pubblicato un nuovo video parliamo anche di smartphone in particolare di huawei p10 esteticamente parlando lo trovo davvero anonimissimo e brutto una cosa buona a quanto pare la fatta sicuramente sarà buono anche il telefono in sé sto scherzando ovviamente esteticamente secondo me è bello quanto un ippopotamo però nel senso sicuramente sarà un buon telefono questo è il senso però appunto la fotocamera oggi parliamo della fotocamera che è su dxomark che è il sito che si occupa di recensire tutte le fotocamere non solo degli smartphone e che ricordiamo ha una smartphone in vetta a tutta la classifica con un punteggio di 89 punti ha recensito quella che è la fotocamera di huawei p10 portandola a 87 punti quindi davvero vicinissimo alla vetta di 89 avendo un punteggio di 88 per le foto e 84 per i video lodando parecchio quella che è l'esposizione della fotocamera insomma huawei sembra averci azzeccato con questa collaborazione con laica e quindi ancora una volta porta anche quest'anno una fotocamera ai vertici è una fotocamera molto buona che oltretutto non si è fatta a suora pur essendo appunto una in bianco e nero che appunto è laica però insomma questo video sta divagando fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe avere più video un pochettino più così soft no più alla leggera non troppo buonasera sono Simone del mio canale e benvenuti a questo nuovo impostatissimo video ma comunque questo era un video davvero abbastanza povero di news perché non è uscito praticamente niente di nuovo e soprattutto la news principale di questa settimana me la voglio tenere per un video a parte che uscirà durante questa settimana quindi rimanete sintonizzati perché appunto arriverà un video molto importante e anche qualcosa che c'entra con quello che vedete qui qua sotto trovate tutti i link dei social e anche il video appunto di Andrea Blackjeak che ha fatto appunto anche questa settimana un video sulle news tech e quindi grazie mille per essere passati noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale e ancora una volta un saluto da Simone ciao bella a tutti ragazzi no